La comunità di Novivelia ha celebrato il rito del Corpus Domini, domenica sera la processione che dalla chiesa madre del paese si è snodata per vicoli e vicoletti. La solennità del Corpus Domini, corpo del Signore, è una festa di precetto, chiude il ciclo delle feste del periodo post Pasqua e celebra il mistero dell'Eucaristia istituita da Gesù nell'ultima cena. Anche Novivelia ha voluto rispettare il momento religioso sotto la guida del parroco Dunaniello Panzariello. Tanti bambini in processione, soprattutto quelli che una settimana fa hanno ricevuto la prima comunione. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Non è passata inosservata la presenza dell'ormai ex sindaco Maria Ricchiuti, l'onorevole sempre in prima fila nei momenti importanti della comunità novese, prima di tutto da cittadino ma anche da esponente politico del territorio cilentano. Il suo mandato da consigliere regionale è ancora lungo. Diano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza. Amen, alleluia. A lui la gloria della Chiesa e Cristo Gesù per tutte le generazioni nei secoli dei secoli. A lui la gloria della Chiesa e Cristo Gesù per tutte le generazioni dei secoli. A lui la gloria della Chiesa e Cristo Gesù per tutte le generazioni dei secoli.